1972 Washington scoppia lo scandalo Watergate 1970 Città del Messico, Stadio Azteca, Italia Germania Ovest 4 a 3 1974 primi omicidi delle Brigate Rosse, due morti dell'MSI di Padova Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia Oggi 1983 l'arresto di Enzo Tortora, uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia del nostro paese Musica